E' incredibile, va a vincere! TURBO! Giocante! Concentrazione, forza! Sì! 17 minuti! E' un uovo record! Turbo, pronto a scattare! Hai visto? Mi ha tagliato la strada! Buongiorno, Phil! Ah, che peccato! Va bene, gente! Abbiamo un sacco di pomodori da raccogliere oggi! Oh no! Oh! Stavolta no! Che si porta in testa la prima curva e Turbo lo tallona all'uscita sul rettilineo! Ce ne siamo! Gagnè, impara che il vincitore sia... Oh! Per un pelo! A pranzo! Ma attenzione! Rompicusso! A ore due! Vedete il protocollo! Rintana e rotola! Via! 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 Lo vedi che non... Si smotta! Notte Gin! Notte Sally! Notte Steve! Tu come ti chiami? Me la squaglio! Ciao! Un consiglio per i futuri piloti che forse ci guardano da casa? Oh sì, sono io, sono io! Cos'è? Quell'unica cosa è... No! Aspetta! No! No, 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 no! No! Su! Solo tu, guarderai... Buongiorno, Steve! Buongiorno! Noritano! Noritano! Deo! Tutto pronto sulla griglia di partenza. Ancora una volta Turbo è davanti a tutti! Passa all'esterno! Rettilineo finale! Pensavo di farcela. Oh no! 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 Oh no! No! Oh no! Non sono morto, non sono morto. Non sono morto, non sono morto, non sono morto. Finalmente. Era una domanda retorica! C'è... Calma ragazzi, non vorrete farlo sul serio? C'è... 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 Meglio andare, Teo! Sì! Via! C'è... 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 Schiacciolata! Via! Scusa, Tito. TITO! Due! Quindi arriviamo! Ecco qui! Adesso sì! Ma tu bato profumato oleato! Abbiamo un concorrente! Che succede? Che fai? Stai cercando di farmi arrestare? Ehi! Che fai la città! 2, 2, 6 Capito a che me riferivo? Fa tutto gas Allora, visto che roba Tori che non conosce stress Ho un applauso Nessuna impass Ehi, va tutto gas Trasmesse in oltre 200 paesi In 32 differenti lingue Ormai non è Qualcuno ha il dappi per le orecchie? Cosa? E sono partiti Quella lumacca è spacciata Credo che sto per svenire Padra del pitstop da adesso ha una nuova gestione Si dà giù Massaggio al piede Vibrazioni rilassate Nonostante un inizio difficile Turbo sta recuperando terreno I piloti devono fare attenzione entrando in curva 4 A trasformarsi in proiettili per i piloti Ci siamo Turbo! Oh no Fin qui ci siamo Tra poco, bandiera verde Si riparte Non stavolta Forza Dai, tieni giro ancora un pochino No Addio lumacca Incredibile Turbo è passato in testa Poserpeggia tra le auto come una lumaca posseduta È determinato a mantenere la leadership Che sta facendo? Turbo! Turbo! Non lo vedo Non lo vedo Cosa? Non farmi arrabbiare Cala lomba Dove è uno spazio? Turbo! Turbo! Brutta figlia di Roma Brutta figlia di Roma Grutta figlia di Roma 國 Brutta figlia di Roma Ciao! Brutta figlia di Roma Brutta figlia di Roma ehi ragazzi mio fratello ha vinto la il di 500 mila ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta piccolo amico tu sei eccezionale ah ah Ah, 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 ah Chi ha il fegato di affrontare sul ring? Il piccolo Yama? Va a dormire Ho altri soldi Megabot Distruggi Io vedrai il tuo covo di erda Per ora Prendi A temperatura di 500 gradi Kelvin Grandio Fred Il tizio dietro di te Ah ah non allarmarti è solo Quando si connette ai suoi amichetti La storia si fa un po' più interessante Trasmettitore neurale Costruzioni Ciò per cui ci volevano mesi o anni di lavoro Parliamo di trasporti I microbot spostano qualunque co- Se potete pensarlo Il limite è l'immaginazione Microbot Questo è il mio nipote Sì Ti senti be- Tadashi no Non si tocca In una scala da uno In una scala Zero Puoi anche piangere se vuoi No Il pianto è una naturale conseguenza Volto sul petto sotto le ascelle Grazie è sufficiente Potresti avvertire la compatto del trattamento Va bene Sono soddisfatto del bravo Beimax Per favore Presta cautela Una caduta da questa altezza Potrebbe causarti le- Oh no Perdonami Sì Kiro Mi è venuto Un infarto Oh no Forza Forza Andiamo Butta laggiù Dai Via 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 Svoliamoci Avanti Sgompiati No 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 Puki vi ha aggrediti con dei robot volanti in miniatura Microbot Lei ha sporto dei- Sono sanitario Il tuo personale è operatore Deimax Radicarta così po- Siamo saltati giù da una finestra No Silenzio Ssshh Eh Ssshh Ssshh Non di tutto Le alette sono quasi pronte Ma la smetti Ssshh Wee Catturare l'uomo mascherato Migliorerebbe il tuo stato emotivo? Assolutamente sì Pugno a martello Caccio laterale Mano a coltello Andiamo Prendilo Baymax Dopo ho mangiato Aspetta Andiamo Prendilo No 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 Aspetta Che vuoi fare? Ti salvo la vita Usabi? Oh ciao ciao Hero Perchè ti fermi? Il semoforo è rosso Un pazzo si inserisce Vuole ucciderci Non avrei mica messo la freccia Maimau Maimau Ce l'abbiamo fatta, sì! Il trasmettitore neurale deve essere nella maschera, se la prendiamo? Il trasmettitore neurale deve essere nella maschera, se la prendiamo? Oh! Prollo! Propulsori al massimo! Su, 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 su! Propulsori! Propulsori! Cavolo! Bene! Oh, Baymax! Ha ha ha! Wow! Oh, Baymax! Yeah! Oh, Baymax! E allora ciao! Fanta... Oh no! Baymax, facci uscire da qui! Baymax! Gravitazionale! Oh, sto un po' pazzesco! Sul serio, qual è il piano? C'è un po' pazzesco! Ti avrei in arrivo! Trocino! Baymax! Carro, vola! Vino! No. Preparati a vedere sparire tutto quello che hai costruito. Oh no! Ti faccio lei un po' streg... Ah, trova... Ti dispiace partire per un viaggetto? Doppia rotazione! Adoro quel robot! Diamoci dentro, Freddy! Cortina fumogena! E picchiata! Le mie lame verdi sono una furia! Doppio cartello rotante! Wuh, questa sì che è una reazione! Adesso basta! Stop! Ben Max! No! Possiamo fare questo! Attento! Ok, portiamola in salvo. Abitamento a destra! Ok, stabili... Baymax! 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 Non posso disattivarmi finché non mi dici che sei soddisfatto del trattamento. No, 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 no! Basta! Muoviti! Entra! Non eravamo partiti per fare supereroi. Ma a volte la vita non va secondo i tuoi piani. Ed è ciò che faremo. Chi siamo noi? Un mondo in cui le prede temevano i predatori. E... E... Morte. Ciò che vuole! Grazie e buonanotte! Voglio rendere il mondo un posto migliore! Ti sporchi tutto. Esatto, è fantastico avere dei sogni. Dammi subito quei biglietti! Oppure ti faccio al forno con le patate, pecorella! Hai! Tu non mi fai paura, Gideon! Angipi... Ah, tu non mo... Che pensi di poter essere qualcosa di diverso! Sei una sciocca coniglietta coltiva carote! Io non mollo proprio mai. Fini! Undra Town! Piazza Sahara! Distretta foresta pluviale per citarne alcun... Un volo di 300 metri! Sei morta, sgranampi a carote! Estadontico! Sei morta! Morta, 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 morta! Molla tutta e tornatemi a casa, coniglietta! Non sei mai visto un coniglio poliziotto? Mai? Senti... Ma... Iniziativa di integrazione mammifera ha portato alla promozione di una cadetta! E guarda questo c'è! Oh, santo cielo! Non le serve un taser per Volpis, tu! Ok, devo andare! Ciao! Ci vediamo presto! Ciao, ciao tesoro! Studi, ti voglio male! Poi per primo! Scusami! Aria! E devo dire che sei anche più tenera di quanto pensassi! Ciao! Ecco dov'eri, birbantella! Sento a lottare per la giustizia? Mettetevi seduti! Allora, ho tre punti all'ordine del giorno! Copleanno! Oh, sì! Secondo! Duecento uno! State bloccando la fila! I suoi clienti sono consapevoli di mangiare muco e caccole insieme ai loro gelati? Sanitario! E a dirla tutta, questo è un bel problema! Quindici dollari! La ringrazio molto! Zampaghiacciolo! Prendete una zampa a ghiacciolo! Consegna legname! Nove e quaranta! Ecco qua! Bel modo di far fruttare un pannolino! E non sono io il bugiardo, ma è lui! Nessuno può dirmi ciò che posso essere o non essere! E specialmente... E quello non è cemento fresco! Non sarai mai un poliziotto? Ma... Ho tardato trenta secondi! Ah, brava! Sei una grande! Sono un vero poliziotto, sono un vero poliziotto, sono un vero poliziotto, sono un vero poliziotto... Fermo! Eh? Fermo, in nome della legge! Prendimi se ci riesci, godà piocco! Fate largo! Qui, agente McCord, codice 1031! Ci fai, sono io! Agente Ops, sono... Fermo! Ehi, ausiliare! Aspetta i veri poliziotti! D'acqua! D'acqua! Cammella! Bella acconciatura! Sono ok! Botanica C, sono cresciuta in una famiglia di coltivatori di piante... Chiudi quella boccuccia, subito! Vuoi vederla? Non adesso! Ok, credevo volesse vederla, stavolta sembra molto agitata! Non adesso! Ehi, me le presti! Grazie! Vuol dire... Vuol dire che... Io... Ho una pista! Ehi, carottina! Così svegli il piccolo! Devo andare al lavoro! 200 bigliettoni al giorno, sciocchina! 365 giorni all'anno da quando ho tu... Ti ha fregato alla grande! Ti ascolto! Salve! Salve! Ah, grazie mille! Lei non immagina quanto lo apprezzi, è molto gentile da parte... È tutto nudo! Nanghi sta dall'altra parte della piscina del piacere! Sì, per alcuni mammiferi il naturalismo è strano... Ma tutto! Ehi, nanghi! Loro c'hanno da farti delle domande su Emmett la lontra! Era 2-9-T-H-D-0-3 Tempo e ogni minuto è prezioso! Aspetta! Sono tutti... Bradipi! Hai detto che ci avremmo messo poco! Incinto! Ok! Ormai l'ho detto! Per favore, non... Sì, sì, dai, grazie! 2-9-T-H-D-0-3 Te! Vediamo l'intestatario... È chiuso! Fantastico! E scommetto che non hai un mandato per... Robin! Ehi! Hai voluto aiutarti di più! Il fatto è che... Non serve un mandato quando hai un sospetto... Oh mio Dio! Che c'è? Che c'è? Il pifferaio magico di Jerry Vol! Sterebig mi trova qui, quindi andiamo via! È subito! Raymond! Eh? Per la vecchia amicizia! Questa è un'op... Que... Minacciarmi quanto vuole, ma scoprirò che cosa ha fatta quella lontra anche fosse l'ultima cosa che... No, no, no! Se ce l'avete con me per il tappeto ne ho molti altri! Papino! Freddateli! Oh, no, no, no! Fermi! Fermi! Lei è la coniglietta che ieri... Mettetele giù! Mietta! Solo lui può dirvi di più! Dovreste domandare... Cosa è successo a me? Era un selvaggio! Così, all'improvviso, si mise a parlare degli unulatori notturni! Ok... Volpe acuta! Bello! Va tutto bene? Cosa gli è preso? Non lo so! Stai giù! Stai giù! Scusa un secondo... Cropper! Cropper, ascoltami! Abbiamo 10,91! Andiamo! Facando! Oh! 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 Warian v prends! Oh! 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 Guardo! Giorno! Non sono l'unica ad averlo visto. Signore, se potessi approvare questi importantissimi... Ma, signore... Scusi tanto. No, 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 ma, signore, oggi presiede la commissione Greggio e Pasquali, signore. Darius, mettila, partirà l'ululato di massa. Non ho iniziato io. Anzi, dopo di te. Sei tu lo sbirro. Ok, via libera. Non di tracce di artiglio. No, no, no! Ora la portiamo fuori da qui. Anche no! Basta! Non voglio sentire più di dodici animali che hanno perso la testa e non riuscite a spiegarmi il motivo. La tua azione deve rimanere invariata. Oh, no! C'è qualcuno! Darius, siamo morti! Siamo morti! Fox! Judy! Dobbiamo dirlo a poco! Sindaco Lionheart ha il diritto di restare in silenzio. Sporco ratto, perché il mondone di nome è Doug? Abbiamo un punto di scambio sotterraneo. Stami a sentire. Doug non è proprio un tipo. Andiamo. Ricevuto. Sono in serio? Sì, so che sono veloci. Posso prenderlo. E lo sentirà il notiziario. Dipende da chi fa prima. Hey Doug! Apri la porta! Spero che stavolta abbia tanta schiuma. Grandioso, ora fai anche il macchinista? Magari è grande? Vieni qui! Arriva! Caro... Petino? Petino? Oh no! Non è rimasto niente Nick, sì! Andiamo, torniamo al distretto di polizia Siamo quasi Judy! Judy! Sindaco Belweb Dà pure a me quella valigetta Eh, sa che le dico? Credo che Nick e io la... Ops, un mirtello? No Pensaci No, certo che no Lo farà lui No! No Nick, non farlo, resisti Oh, ma! Roico poliziotto ucciso da una volpe selvaggia In realtà è qui E che cosa c'è in quell'arma? Sono mirtilli Li produce la mia famiglia La mia parola contro la vostra Oh, in realtà E colpirei ogni... Ma dobbiamo tentare Perciò non importa a quale specie apparteniate Provate a rendere il mondo un posto migliore I conigli sono pessimi guidatori O se è un caso isolato No! Andava a 185 km orari Spero abbia una buona motivazione Oh, tutti! Oh, try everything. Con las pesugnias, arriva, coraggio! Making us new mistakes. Oh, try everything. Oh, 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 try everything. Oh, curva d'homito! Lui ha paura. È molto bravo a tenere Riley al sicuro. Non appena tu avrai coiato questa! Mamma! Adoro l'isola dell'onestà. E questo è vero. E ovviamente è l'isola della famiglia. Serena, attenta! Lava! Cervello ghiacciato! Ehi? Sai la novità? Il camion del trasloco arriverà giovedì. Stai scherzando? Oh, la nostra roba è fantastica! Ma l'hai letto almeno il contratto? Anderson riparte! Oh! Vieni giù! Ehi! Ehi! No! No! Bel colpo, Gioia! L'episodio del dinosauro. Andiamo, è stato buffissimo! Io male! Sembrava fuoco! È stato terribile! Seppellito papà nella sabbia fino al collo. Oh, io pensavo più alla pioggia. Lungo la schiena ci inzuppa le scarpe. E sentiamo freddo. E i brividi. Piangere mi tranquillizza. Mi fissa sulla gravità dei problemi della vita. No! A schiantarsi! Oh, sei fortunata tu! Puoi leggere queste cose bellissime! Io devo lavorare! La vita è... Ciao! Vi ho svegliato! Sì, fa molto freddo. Il lago si ghiaccia e... Allora giochiamo... Che cosa succede? Aiutala tu, Gioia! Giocavamo... Piangendo! A scuola! Tristezza! Che stai facendo? Fermatelo! No! Di base! No! 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 Perché si comporta così? Che cosa ti aspetti? Tutte le isole sono spente! Gioia saprebbe cosa farlo per Riley! Devi solo seguire me e basta! No! Oh! 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 Abbiamo un problema serio! Oh, Gioia! Dove sei finita? Ma dobbiamo provarci! Va bene, vieni! Oh! Riley si è addormenta... Oh, non ce l'ho fatto! No, no! No, 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 no! Oh! Da che parte? Saremo al quartier generale prima di domattina! Possiamo farcela! Sarà facile! Sinistra! Ah! Sei sicura di sapere dove stiamo andando? Perché sembra che ci stiamo allontanando! Ricordatelo! Lavoratori della mente! Ma Gioia siamo quasi... Oh! Cuore senza anima! Sbarazzati degli altri! State fuori! Questi americani! Che ne pensi? Veniamo a Washington! Questo non sbiadirà mai! Sì! Ehi, lo so! Conosciamo tutti quella canzone! Molto ore chiave del tutto! Ehi, che ne dici? Lo facciamo? Sì! Ti piace il posto? Hai sentito qualche terremoto? Il ponte è bello? Un'altra mica! Ehi, ehi, sei felice! Non vogliamo perdere altre isole, ragazzi! Come? Devo andare! Aspettate, sentite! Potete almeno dirmi da che parte... Deve esserci un modo migliore! Ehi, aspetta! Aspetta, fermati! Diversivo! Cosa? Addio! Vabbè! Come ci fai qua giù? Ottima domanda! Vuoi rispondere tu, tristezza? Oh, senza di te e Riley... Ricordi quando tu e Riley suonavate insieme? Sono venuta a tutti i vostri concerti! Quale amico vuoi con te? Bing bong! Bing bong! Che ha sempre un razzo lì con sé? Bing bong! Gli animali andavano alla grande! La mucca muggisce, il cavallo nitrisce, i bambini non parlavano d'altro a lei! Sì! Quando torno al quartier generale, mi assicurerò che Riley si ricordi di te! Davvero? Ma certo! Le piace... Tieni! Usa questo! Grazie! Aspetta un secondo! Grazie! Tornare a piedi al quartier generale sarà più facile! Su, giù, dappertutto! Ma c'è una stazione a Imaginambia! Conosco una scorciato... Bing bong! Dice che è la via più breve! Ma Gioia, lì c'è il pensiero astratto! Di che state par... La scorciatoia? Fa... Facciamo il giro... Di qua! Sono quasi arrivato! Va bene... Come vuoi! Allora... Quale concetto astratto cerchiamo di comprendere oggi? Ehm... La solitudine! Oh non l'hanno acceso! Ah! Ma... Questo non l'ho mai visto prima! Siamo uniti! Oh! Ah! Siamo al secondo stadio! Ci stiamo destrutturando! Oh! Il treno! Ah! Ah! Attivi! Questo è l'ultimo stadio! Non ce la faremo! Ferma! Quando è il prossimo treno? Chi lo sa! Ah 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 ah! Sì! C'è davvero un'altra stazione? Ah ah! Di là? Festa di patatine fritte! Mmm! Incredibile! Oh! Oh! Guarda! Città di nuvole! È la mia preferita! Oh! Così so! Meglio del meglio! Oh! Oh! Dovremmo interagire così tutto il tempo! Oh! Lo adoro immaginanti! Non è favolosa! E c'è sempre qualcosa di nuovo con... Buona fortuna tesoro! La fortuna non ci aiuterà! Se usa l'isola dell'Occhi questa si distruggerà! Abbiamo fatta! Sta funzionando! Au! Oh! Oh! Ehm! A che serve? Ehm! Andrà tutto bene! Occhi! Dopo il castello di cracker integrali Che strano Era proprio qui, mi chiedo perché La galleria dei campioni degli animali di peluche No, no, no Città della nave di scarica Reine e io dobbiamo andare sulla luce Si aggiusterà tutto, vedrai Noi possiamo rimediare Dobbiamo solo tornare al quartier generale Ehi, Bing Bong, guarda qua L'abbiamo fatta Torneremo finalmente a casa Una scala da 1 a 10 a questa giornata do zero Perché non la smettiamo di stare con le mani in mano e fa Le emozioni non possono squagliarsela Che cos'è? Oh niente, solo l'idea migliore del mondo Cioè? E' così, ma programma sviluppo di ricordi base felici Non puoi dire sul se Ho chiesto forse la pubblicità della gomma Che proprio dietro l'angolo ci aspetta un mare di divertimento Perché ci siamo fermati? Riley si è addormentata Siamo tutti in pausa Saremo bloccati qui Se lo svegliassimo Ottima idea Grazie, venite Unicorno arcobaleno È proprio lei Bella l'avventura del sogno fatato parte 7 Vado, la adoro Riley ha rotto con la sua migliore amica Ha avuto una brutta giornata E ha chiuso con l'occhio Non fa un brutto sogno Potremmo spaventarla Spaventarla, no, no Con tutto quello che Riley adora i cani Indossa questo Credo che funzionerà Bimbo Sì Attento a que Trucco, via dalla scena Andiamo in onda tra 5, 4, 3 Vorrei presentarvi una nuova alunna E adesso vivo qui Oh, guardate, le stanno cadendo i denti Cascino Seguimi e basta Andiamo Tu già stai rovinando il sogno La stai spaventando Ma guarda, funziona Non potete farmi questo Io ho conoscenze In qualche generale Ora basta, finisci là Il cappello mi sta all'arma Come facciamo a entrare? Ehi, è il mio cappello È grazie a questa Ehi, voi Oh, beccate Mi piace qui È dove tengono le paure più profonde di Riley Polveri della nonna Carta di caramelle Oh, polla Ah, sei qui Shhh Oh, no Compleanno? Sì, è così Ci saranno torta Molti regali Giochi E poi Chi è la festeggiata? Ce l'abbiamo fatta Indominate chi è diretto al quartier generale? Noi Andavamo nudi Poi c'era un cane E la subita posteriore Lo stava inseguendo E poi ho visto Gio degli elefanti E ne noleggiamo uno Ehi, bella idea Con la corriera a sala Che panorama È stata una buona idea Spaventare Riley per svegliarla Non sei affetto male Adesso non entrerà nel mio raggio Come andremo sulla luna? Oh, è quella volta dell'albero C'è molto anche a me Ah, brava Cominci ad afferrare Sì Facciamo così Ne riparleremo quando saremo tornate Va bene? Faceva più di un traslo Aha Non hai saputo Riley scappa di casa Che cosa? Gioia Se ci sbrichiamo Possiamo ancora fermarla L'isola della famiglia Gioia! 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 Gioia, che stai facendo? Smettila! Gioia, che stai facendo? Siamo trasferiti. Ho sbagliato il tiro decisivo e stava malissimo. Voleva mollare la squadra. Gioia, che stai facendo? Gioia! Un altro pianeta. Gioia, che vuoi con te? Che ha sempre un razzo lì con sé. Gioia, che stai facendo? Che stai facendo? Che stai facendo? Vai! Vai a sommare Riley! Riley? Riley? La mamma ci ha scoperti! Che facciamo? Riley! Lasciami andare via! Riley sta meglio senza di me! Fantastico! Che vuol dire incastrata? E adesso? Oh no 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 no! Ci sono! Facciamolo spaventare! Questo le farà cambiare idea! Geniale! So che è geniale farlo! Per farle provare emozioni. Che cosa abbiamo fatto? Darai la vita per Riley! Darai la vita per Riley! Dai, 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 dai. È una follia. È una follia. No, 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 Gioia, pensa. Gioia! Razziti! È Gioia! State indietro! Belco... Riley, eravamo così preoccupati. Dove sei stata? È tardi! ...dietro di occhi. Voglio tornare a casa. ...dietro di occhi. ...dietro di occhi. ...dietro di occhi. L'amicizia è cresciuta Hanno finalmente aperto la sezione e discussioni amichevoli Mi piace quella dell'amore tra... Nuova console ampliata, installata e funzionante Forte, è due punti... Sioni, questa nuova console è proprio la f***a Scusate, l'ho fatto di nuovo, colpa... Forza, Raleigh! Va bene, va bene, non devo andare Sono i migliori! L'idea migliore che ha avuto ultimamente... È proprio un tesoro Ragazza, ragazza, ragazza